Allora, adesso entra un soprano lirico-leggero che sto preparando in un ballo in maschera nel personaggio di Oscar, perché ho l'intenzione di mettere su un ballo in maschera. Mi chiamo Sabina Portolas e sono spagnolo. Sarei partire quando volete. Direi che senza scappare, eh? Oh, 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 oh Più alto. Questo è un po' aperto, non lo dobbiamo dire, fa giusto. Uguale. Senza spingere, giù piatto. Poglio un picchiettato qua. Bene. Lo stesso. Un po' aperto, non è. Un po' aperto. Lo stesso è un po' aperto. No, 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 no. No, 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 no. La difficione è sempre di tenere un piano alto perché altrimenti va indietro. Grazie.